Raga, questo è il mio secondo video lungo e oggi get ready with me per andare al compleanno di mia nonna. Allora, sono particolarmente in ritardo, vi metterò tipo 18 mani davanti alla telecamera, sappiatelo, e sono particolarmente... ho lo specchio di qua... sono particolarmente in ritardo, ok? Quindi mi devo dare una spicciatina, però punto a mio favore, so già l'outfit e ho già lavato i denti, quindi... alla fin fine sono abbastanza in orario. Ce la faremo? Non ce la faremo? Questo non ve lo so dire. Comunque, allora, dato che so già qui outfit mettere, ve lo descrivo un po', perché dopo ve lo faccio vedere. Allora, come outfit, avevo intenzione di mettere un pantalone di pelle nero, un blazer fucsia e una magliettina, magliettina, maglioncino perché dove andiamo fa freddo, tipo un po' beige, non so esattamente che colore sia, però molto carina. Per quanto riguarda il make-up, non intendo fare niente di esagerato, penso che alla fine farò sempre il mio solito make-up, che è lo stesso da 250 anni, però bene. Allora, invece, dato che ce l'ho proprio nello specchio, mi riflette i libri che sono lì, volevo dirvi che, allora, per quanto riguarda i libri, dato che tra poco a dicembre c'è il mio compleanno, c'è Natale, poi c'era Pasqua e tutto. Io sono convinta che mi regaleranno libri, perché almeno due o tre libri li riceverò sicuramente, da qualcuno. E di conseguenza ho avuto la brillantissima idea di iniziare, intanto a tirare un po' sulle maniche, perché se no mi sporco anche l'anima. Comunque questo meraviglioso chignon, perché sia meraviglioso, me lo sono fatta per fare skin care e lo terrò anche su per il make-up, perché non ho tempo di farli subito i capelli. Quindi, a proposito di capelli, non ho preso il pennello. Dicevo, a proposito di capelli, li lascio sciolti, classici, lisci, tanto, vabbè, ci stanno. E comunque stavo pensando al fatto che nei video penso sempre, cioè prima di fare i video penso sempre a 250 argomenti di cui parlarvi, ok? E poi inizio un video, non so mai che cosa dirvi. Sta cosa è molto esotica, però bene. Ecco, esotico è una delle mie parole preferite al mondo, quindi l'adoro. Tornando all'argomento libri, perché a me piace molto leggere, ok? Però comunque su questo canale l'ho iniziato parlando di beauty, e non voglio parlarvi sempre solo di libri, vorrei cercare anche di portarvi più contenuti beauty, e mi piace, cioè mi piacerebbe comunque provare a conciliare le due cose, però vabbè, ci proveremo. In ogni caso, sono uguali secondo voi? Secondo me sì. Allora, in ogni caso vi dicevo, però sono stupida, raga, non ho preso gli altri pennelli, ne ho preso solo uno. È presto e stamattina non ce la posso fare, scusatemi. Allora, dicevamo, mi si è spaccata la cibia, quindi per tirarla giù devo fare questo lavoro, nemmeno forse in polvere libera, però in polvere libera, però vabbè. Devo finire un argomento, perché se no impazzisco. Allora, diciamo sui libri. Dato che sicuramente ne riceverò almeno un po', tra Natale, compleanno, eccetera, io questo mese, ottobre, lo dedico un po' allo smaltimento dei libri che mi restano da leggere, ovvero siamo già tipo al 16 novembre, 17 novembre, comunque, quindi sicuramente non riuscirò a leggere tutti i libri che mi mancano perché sono tantissimi, però anche perché al 17 io sto ancora leggendo Game of Titans, a proposito di Game of Titans, una pagina 150 mi sembra, mi sta piacendo, mi è indotta la cibia in bocca, mi sta piacendo molto, però sta succedendo di tutto, ok? Cioè nell'arco di 100 pagine sono successe male cose, male cose, madonna, raga, è successo qualsiasi cosa. E comunque vi dicevo, quindi questo mese lo dedico un po', magari adesso interrompo un attimo Game of Titans per leggere qualcosa di un po' più piccolo, e dedico questo mese allo smaltimento dei libri perché se no io tutte le volte che vado in libreria, ok, entro e dico, no dai, qualcosina magari oggi la compro perché è un po' che non compro libri, solo che poi rifletto e dico, ma no, raga, che cacchio sto facendo? Io ho 250 libri a casa da leggere e ne compro di altri? No. Perché? Perché mi dispiace, perché poi, e ma che metto? Perché li lascio lì e non li uso, capite? Se ne ho troppi a casa, avete capito? E nel senso che, adesso metto la matita nera, allora, non so, dubito di riuscirci parlando, quindi mi sa che blocco il video. Però prima vi dico, non so, nel senso, se compro libri nuovi, poi non leggo più quelli vecchi, ma continuo a leggere quelli nuovi, ok? Adesso sta succedendo, cioè io ho dei libri che sono lì da gennaio, che non ho letto ancora, e boh, la cosa un po' mi disturba, va bene, perché mi dispiace non leggerli, ma tenere lì. Poi lo so che alla fine li leggerò, perché adesso li sto recuperando un sacco, che avevo preso un sacco di tempo fa, però vorrei anche andare un po' avanti con le letture che ho da tempo, capite? Comunque nella mia testa io mi stavo chiedendo, ma c'è veramente qualcuno che riguarda i miei video lunghi? Cioè, a voi, comunque, questa è la matita, ma c'è veramente qualcuno? C'è veramente qualcuno a cui piace sentirmi parlare per tipo dieci minuti? Boh, spiegatemi come fate. A nessuno piace quando parlo per tipo dieci minuti, però va bene. Adesso vado a mettere l'illuminante all'interno dell'occhio, è un pochino qua, e mi sa che abbonderà un pochino col blush, perché secondo me non si vede tanto, quindi aggiungo un pedino di blush, un pedino di blush, magari più di qua, perché mi sembra un pochino più chiaro. Ecco, vi dico due cose importanti. La prima è che tra pochissimo penso vi farò un bel aggiornamento di lettura, anche se 9 su 10 sarò ancora bloccata a pagina 150 di Game of Titans, perché con la scuola e lo studio non ho tanto tempo per leggere, però da adesso in poi, fino alla fine di novembre circa, non ho più verifiche, e questo è un mio punto a favore, e interrogazioni manca tipo solo quella di scienze, perché poi tutti gli altri prof mi hanno bombardata di interrogazioni nei primi due mesi, quindi sono stata interrogata praticamente di tutto, e vi direi che posso stare un attimo più tranquilla e leggere un pochino di più, quindi meglio. Poi vabbè ovviamente partiranno le vacanze di Natale, lì mi leggerò anche la dina... No, no, sto bene così, però mi leggerò qualsiasi cosa, nel senso. E non so che illuminante mettere. Cioè questa è la palette, ok? Allora questo qua praticamente bianco, questo è molto doratino, doratino. Questo è bronzo, questo è tipo bronzo scuro. Non so sinceramente che cosa mettere. Allora generalmente uso questo, però magari oggi tento con questo. Non lo so, vado a chiedere a mia sorella. Ok, abbiamo optato per questo illuminante un pochino più scuro. E l'altra informazione che volevo dare, no, che vi avevo detto due cose importanti vi devo dire. Una è che tra poco farò un bel aggiornamento di lettura, magari anche con i libri che intendo leggere da adesso in poi, iniziare a leggere. E la seconda è che quando sarà il mio compleanno ovviamente vi farò un bel video, penso che anche quello sarà lungo, in cui vi faccio vedere tutto ciò che mi hanno regalato. e sono molto contenta di ciò. Però va bene. Una cosa, siccome volevo mettere un blazer fucsia per colorare un po' l'outfit, avevo pensato all'angolo interno, anziché mettere i brillantini, di mettere una puntina di ombretto fucsia. No, solo che poi mi hanno detto che no, forse è un po' troppo così. E io dico, oh, in che senso? Beh, comunque il punto è che alla fine ho optato per una cosa tanto più semplice, però vabbè. Comunque non ne avrei nemmeno il tempo, perché sono tipo le otto. Sono le otto, vero? Che sta succedendo? Nel dubbio sì, sono le otto, perché sento le campane. E quindi non avrei nemmeno il tempo, perché devo andare, raga. Sono in ritardo. Perché io sono sempre in ritardo? Perché? Sì, spiegatemelo, non è giusto sta cosa. Ok, io vi direi che a sto punto, mascara, mi pettino le sopracciglia, vi direi che faccio le labbra, ma per fare le labbra penso che metterò un gloss, una tinta. Il piegaciglia, il piegaciglia, ferma Sofia, il piegaciglia. Questo è il risultato del make-up con il mascara. Adesso mi pettino le sopracciglia e mi vesto all'istante, perché le labbra le posso anche fare in macchina, ma devo essere vestita. Quindi mi devo dare una spicciata. E non ho messo gli illuminanti qua. al volo, proprio al volissimo, perché potrebbero uccidermi, ma va bene. E poi generalmente in realtà sono la prima a essere preguntata, ma stamattina sono in ritardo? Perché? Perché papà mi ha fatto il tortino. Ecco, se non l'avete visto, ho fatto un breve shorts, in cui ho detto, fanno fungere il tortino. E... Perché sì, raga, il mio patatino, il mio papà, il mio bibi, che è tipo l'amore della mia vita, si è svegliato presto, solo per prepararmi il tortino. E io in realtà ero sveglia già alle 7, però non avevo voglia di alzarmi, quindi vabbè. Dettagli. Questo è il risultato finale del make-up. Sui labbra non so ancora che cosa farò, ma mi faccio consigliare datata. Adesso scioglio i capelli e mi vesto al volissimo. E poi vi faccio vedere il risultato. Ok, allora, questo è l'outfit finale. Voi ne vedete tipo metà, però vabbè. Questo qua il blazer, sinceramente mi piace molto, ok? Cioè, se lo chiudo, non mi segna particolarmente la vita, quindi penso che lo lascerò aperto, anche perché è molto più informale. Comunque, cosa che non vi ho detto, sono stra-emozionata di vedere mia nonna, perché questa in realtà è una festa sorpresa, ok? E sono particolarmente emozionata di vederla, perché è veramente tanto che non la vedo, quindi sono molto contenta. E poi ho messo i... Oddio, come sono poco strecciata. Pantanoni di pelle neri, che secondo me sono molto molto carini, e ci stanno particolarmente. A questo punto borsa, scarpe, e posso uscire. Bye! Comunque, io non ci credo che qualcuno veramente sia visto tutto il video, perché... Io non lo guarderei, sinceramente. È molto stupido da dire da parte mia, però veramente vi interessa sentirmi parlare per dieci minuti consecutivi. Per me è folle sta cosa. Vabbè, ciao!